Passo di Jau, ieri pomeriggio, i migliori sono già passati da più di mezz'ora, è l'inizio del calvario di Laurent Fignot. Un documento eccezionale, girato dagli operatori svizzeri Antonello Godoli e Alberto Veronese del Media Key di Lugano, in esclusiva per Giro di Vagano. Fignot si rifucilla, riparte, il freddo e la fame lo hanno messo K.O. Altri concorrenti in ritardo tentano di recuperare, per Fignot è davvero un dramma, la mancanza di zuccheri, l'ipoglicemia quindi, lo costringe a fermarsi, non ha più riflessi. Vuole cambiare Giaccavento, con lui De Wolf, Dirk De Wolf, il vincitore del Giro delle Fiandre, secondo la Mondiale di Hudsonomia, gli fa da paglia. Inizia qui un altro quadretto, l'immagine di un gregariato che si riteneva superato nel tempo. De Wolf è affettuoso, gli parla, lo incoraggia e lo spinge. Meno incoraggianti le parole di alcuni crudeli automobilisti che riconoscono l'illustre ritardatario e gli gridano qualche cosa. Così De Wolf per tutta la salita, fino a Campolongo. Si improvvisa anche una specie di catena di Sant'Antonio, vi sono umori contrastanti, chi incoraggia, chi fa dell'ironia, chi addirittura, incivilmente, insulta il campione in crisi. Ed eccoci a Corvara, tre anni fa, proprio qui, Fignot conquistò la maglia rosa, la strappò a breaking in una tappa vinta da Giupponi. Ora giunge sullo stesso traguardo con le trassegne ormai accattastate, siamo in fase di smobilitazione, ma non smobilita il morale del vecchio campione. Arriva stremato, lo caricano in ambulanza, in albergo recupera e questa mattina si è presentato di nuovo alla partenza. Coraggio Fignot, grazie De Wolf. Coraggio Fignot, grazie De Wolf.